giochi con la mamma ponciarello e la sua mamma poi per forza diventa un delinquente ponciarello la mamma gliele da tutte vinte anche se bella severetta ieri è venuto suo fratello a trovarlo e hanno fatto un magnifico sabato sera che c'era lui ponciarello parsifal la cuginetta eccola poi c'era il nostro mozzarillo coi ne che non hanno giocato le femmine non c'erano ecco l'ite tra mamme sull'educazione da dare guardate guardate come si stanno misurando su che educazione dare e la feffi prende le parti vero la feffi cosa dici te cosa dici ti racconta una varzelletta feffi sono impegnate a dover discutere su come si educano i cuccioli vero però vedete sempre anche la discussione come sempre adesso ci va di mezzo feffi che si è messa in mezzo del tipo tu che c'entri stiamo discutendo noi mamme perché io dici che lo vizio troppo non è vero se te che l'hai viziata sta principessa guardate i tuoi piccoli che stanno a vedere cosa fanno le mamme ecco adesso tutti fuori tranquilli arrivederci